Sì, siamo a un anno, oggi è un anno dall'insediamento del nuovo arcivescovo, che contributo ha dato la città secondo lei, come l'ha visto nel suo cammino parallelo? Con Don Mimmo c'è un rapporto straordinario, c'è un rapporto di grande anche vicinanza tra l'Istituto, tra il Comune e la Curia napoletana, come storicamente è sempre avvenuto, stiamo portando avanti insieme delle iniziative sull'educazione, sulla legalità, sull'inclusione che ci vedono molto vicini, quindi credo che Don Mimmo Battaglia stia conducendo il suo magistero in maniera molto positiva e darà un grande contributo alle nostre comunità. Grazie.